Vai, 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 Sandini si è alzato, non è successo, si è alzato Sandini, si è alzato Attenzione, 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 in questo momento Milan Channel ha confermato Cagà non è più del Milan, confermato, è un colpo del processo, il colpo del processo in diretta Cagà ha messo il sito E' la dimostrazione che sono dei mercenari che vivono sulla nostra passione, sulla nostra pelle E' questo che scandalizza, e' questo che ci fa male, noi chiediamo tutto, l'anima e il cuore E' come siamo ripagati da dei mercenari che vanno ovunque E' questo, e' questo, e' questo che dobbiamo prendere altro Perché avete dei dubbi? Non avevo dei dubbi, avevo delle speranze Avevo delle speranze che lui fosse diverso dagli altri E invece anche lui è come gli altri Anche lui è come gli altri E voi ridete, e voi ridete, e invece qui c'è la passione amico mio, caro avvocato Dovresti essere contento che ti sei liberato di un marciatore che ha messo Piangete Milioni e milioni e milioni, centinaia di milioni, anche l'Inter pagherà Aldo scusa, Aldo scusa, io volevo dire una cosa, perché Ti raccomando per cortesia Ma tu credeti davvero che Cacà non accettasse? Tu credi che davvero... Speravo, speravo, speravo con tutto il cuore che fosse diverso Ricordati che quando... Speravo che fosse diverso Quando Biscardi e il processo fanno su una pista Sono sempre dalla parte della ragione perché hanno le informazioni dirette Ho a te, data l'antica amicizia Una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan In Italia e all'estero Cacà rimane al Milan Bello! 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 Scusate, per cortesia, non ho Andrò Guardate, per cortesia, fate zitti, per cortesia No, non sto zitto, sono contento! Allora chiedetegli il microfono per cortesia Presidente! Dobbiamo dire che Cacà è davvero un ragazzo straordinario Ha dato la preferenza a quello che il cuore gli dettava ha detto che preferisce rimanere al Milan e che rimanendo al Milan non chiederà aumenti contrattuali nel prossimo anno è anche crudele che ha avuto un attimo di commozione ha dovuto lasciarci per qualche attimo perché era commossa grazie di cuore io dico a nome mio e a nome di tutti i tifosi grazie Presidente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti